Emanato il bando di gara per la concessione di uno spazio adiacente al mercato ittico sul lungomare di Montesilvano da Dibire a Bar, uno spazio che servirà a dare un maggior impulso al turismo estivo. L'affidamento con procedura pubblica, secondo il criterio dell'offerta economica più alta, procederà anche in caso di una sola offerta valida presentata. Il box è di 18 metri quadri ed è dotato di un bagno che successivamente all'approvazione del bilancio il comune di Montesilvano provvederà a sistemare secondo le normative HCCP così come la vetrata del box. La base d'asta per il cannone annuale è di 2.000 euro con un contratto di locazione di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo. Le domande dovranno essere inviate entro il 23 marzo 2023 alle ore 12 al comune di Montesilvano, settore pianificazione e gestione territoriale. Tra i requisiti necessari la maggior età. Il richiedente dovrà essere cittadino italiano o di un altro stato dell'Unione Europea. Non avere a proprio carico condanne, non trovarsi in stato di liquidazione, non essere debitore nei confronti del comune di Montesilvano e avere requisiti per la somministrazione di cibi e bevande secondo le norme igienico-sanitarie ed essere in possesso del diploma superiore o di laurea triennale, aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio. In un'ottica di riqualificazione del nostro mercatino ittico abbiamo deciso, dopo aver concluso l'iter in commissione, perché abbiamo dovuto cambiare il regolamento nato nella costruzione di questo mercatino ittico, abbiamo deciso di mettere a bando questa struttura, anche perché nei mesi scorsi avevamo deciso di mettere a bando sempre delle strutture adiacenti al mercatino ittico. L'amministrazione comunale è molto attiva in questo periodo, soprattutto nel rilancio delle strutture che da anni sono ferme in città e quindi grazie anche all'aiuto dei consiglieri comunali tutti, maggioranza e opposizione, in poco tempo siamo riusciti a cambiare questo iter. A breve, a giorni, assegneremo anche quest'altra struttura e siamo certi che già dai primi giorni di maggio tutta la struttura tornerà a vivere per ridare anche al turismo di Montesilvano una struttura degna di questa città.